Bene, ben trovati a tutti i web spettatori di TV Radicale, comincia in questo momento la seconda giornata del congresso costitutivo di TV Radicale, l'apertura la sto facendo io in questo istante, ma solamente per pochi secondi perché mi accingo a dare immediatamente la linea alla Presidenza, Marco Marchese dovrebbe essere già collegato, Marco mi senti? Sì perfettamente, eccomi qua Roberto e un saluto. Favoriamo l'ingresso di Marco Marchese, vedete Marco Marchese, a te la parola Marco. Bene, grazie Roberto, prima di cominciare questa seconda e ultima sessione in diretta del congresso costitutivo di TV Radicale, un paio di notizie tecniche. Roberto, prima di tutto tu mi leggi nella chat di Skype? No, non ti leggo Marco, questo è il problema che ho. Ah, quindi non riesci a leggermi lì? No, ho questo problema, non riesco a capire, non riesco a leggerti nella chat di Skype. Dove ti posso scrivere per farmi leggere? Nella chat pubblica. Nella chat pubblica, benissimo. E poi, guarda, se nella chat pubblica mi puoi fare un breve ordine degli interventi perché sul file che ho ricevuto gli orari non combaciano. Allora, dichiaro aperti i lavori della seconda sessione in diretta del congresso costitutivo di TV Radicale. Benvenuto a tutti, siete già tanti che state seguendo, chi da Facebook, chi invece direttamente da live stream sul nostro sito internet www.tivradicale.it. Allora, voglio dare delle notizie che sicuramente faranno piacere ascoltarvi a tutti, notizie numeriche, i numeri di questo congresso e poi dopo passeremo subito con il proseguo del dibattito generale. Oggi ci sono tanti adempimenti da fare. Comunque andiamo con ordine. Prima di tutto la Presidenza vuole comunicare a tutti i congressisti che i partecipanti registrati a questo congresso sono in totale 45 che si dividono in 20 osservatori e 25 soci costituenti. Quindi TV Radicale nasce con… Marco, non ti anticipo chi è, ma sta per arrivare il 26esimo. Ah, benissimo, benissimo. A sorpresa. Sono molto contento. Per cui 25, quasi 26, sono i soci costituenti. Mi sembra un buon numero di partenza per un'associazione radicale. Poi vi posso dare degli altri numeri. Durante la settimana dove si è spostato lì totalmente il dibattito generale sul forum dedicato ai lavori congressuali su www.tiburadicale.it, sono stati aperti 23 argomenti. Su questi 23 argomenti nel dibattito generale, nel forum che riguarda il congresso, sono stati inseriti ben 234 interventi. Il forum ha avuto fra lunedì e oggi 3886 visualizzazioni. Poi vi posso dare dati che riguardano il sito, chiaramente incentivati dai lavori congressuali. In questa settimana, da domenica scorsa fino ad oggi, il sito ha avuto 901 visite, 370 visitatori unici. I visitatori unici significa che il sistema non conteggia, ad esempio, la mia visita che poi si può ripetere più volte, due, tre, quattro volte nel periodo indicato. Quindi abbiamo avuto da domenica fino ad oggi 901 visitatori, 370 visitatori unici. Sono state viste sul nostro sito internet 10.610 pagine. Dato molto interessante, ogni persona che ha visitato il sito ha visitato quasi 12 pagine mediamente, restando collegato mediamente più di 9 minuti e mezzo, poco meno di 10 minuti. Ultimo dato che voglio fornirvi è la frequenza di rimbalzo. Spiegherò che cos'è. La frequenza di rimbalzo è un indicatore molto utile a chi gestisce il sito web perché va a vedere, analizza un po' il comportamento del visitatore. Se un visitatore entra, sta 10 secondi e da quella stessa pagina esce dal sito, allora significa che non ha catturato l'attenzione. Quindi questo viene calcolato in percentuale. se abbiamo un sito dove c'è il 90% di frequenza di rimbalzo, significa che 9 visitatori su 10 entrano, guardano la pagina, però non visualizzano nessun'altra pagina dal sito, abbandonano il sito, quindi questa è un'indicazione, tranne se questo sito non contiene una pagina sola, è un'indicazione chiaramente di scazzo interesse. La nostra frequenza di rimbalzo dell'ultima settimana è dello 0,44%, ciò significa che il 99,5% di colui che è entrato, di questi 901 visitatori che abbiamo avuto, sono entrati nel sito e hanno visitato più di una pagina, ciò significa che è stata catturata la loro attenzione. Passiamo adesso agli adempimenti che abbiamo da fare oggi, per cui datemi soltanto il tempo di aprire una pagina che non ho preventivamente aperto. Intanto ci avviciniamo, chiedo a Roberto di cominciare a provvedere per il primo intervento che è in programma. Posso anche aggiungere quindi il primo intervento in programma e quello di Claudia Sterzi, quindi aggiungiamo Claudia a questa conferenza. Io la presenterò, prima però voglio dare notizia di questi adempimenti, nel frattempo che chiamiamo Claudia. Allora, ecco qua, qui devo spiegare una cosa molto importante, è arrivata Claudia, benvenuta. Benvenuta Claudia. Ciao ragazzi. Benvenuta Claudia. Claudia, prima di darti la parola volevo dare ai congressisti un paio di comunicazioni di servizio. Allora, siamo come dicevamo alla giornata conclusiva dei lavori per cui oggi ci saranno votazioni a propulsione. L'ordine dei lavori prevedeva che sabato si votassero tutti gli eventuali vendamenti proposti allo statuto, emendamenti ne sono arrivati nove, però ci siamo accorti che c'era un'incongruenza tra ordine dei lavori e regolamento congressuale. Allora si prevale chiaramente il regolamento congressuale, quindi che cosa è accaduto? È accaduto che il termine per presentare gli amendamenti allo statuto si è regolarmente chiuso alle ore 24 di venerdì. Ogni socio costituente nella sua casella di posta elettronica ha ricevuto l'elenco definitivo, l'elenco degli amendamenti accettati e validati, sono nove come dicevo, però questi dovevano essere votati ieri nella giornata di sabato, ma siccome il regolamento congressuale prevede la discussione, la presentazione degli amendamenti e non ce la siamo sentiti di privare di questa possibilità ai presentatori, allora abbiamo deciso di spostarla ad oggi questa fase di presentazione e quindi anche di votazione degli amendamenti. Questo avverrà alle ore, quindi anticiperemo, dalle 19 anticiperemo alle ore 18, anticiperemo di un'ora. Per cui alle ore 18 avverrà la fase di presentazione e discussione degli amendamenti, si aprirà il seggio elettorale, alle 17 termina il tempo utile per presentare eventuali mozioni, una mozione è stata già presentata, è stata presentata dal Comitato Promotore ed è già online già da ieri, per cui può essere visionata e può essere già fin da adesso emendata. Io voglio ricordare a tutti i congressisti che chi vuole iscriversi a parlare, sia che si tratti di soci costituenti, sia che si tratti di osservatori, possono farlo chiedendo la parola e inviando un'email all'indirizzo di posta elettronica www.tivradicale-gmail.com, ripeto www.tivradicale-gmail.com, questo per chiedere la parola e intervenire nel dibattito generale. Ci saranno diversi ospiti, incomincerà Claudia Sterzi che è già collegata con noi e sto per dargli la parola. Intorno alle 16, per cui presumibilmente poco dopo la fine dell'intervento di Claudia Sterzi interverrà anche Sergio Rovasio che è segretario dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Come dicevo prima, alle ore 17 scade il termine per la presentazione delle mozioni, la mozione proposta dal Comitato Promotore è già online, alle ore 19 scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti della mozione e alle 19 incomincerà la sessione di votazione. Quindi alle 18 discuteremo degli emendamenti allo statuto e poi dalle 19 si incominceranno le votazioni. Si voteranno prima gli emendamenti allo statuto, poi lo statuto nel suo complesso, si voteranno se saranno presentati emendamenti alla mozione o alle mozioni, dopo le mozioni nel loro complesso in ordine di arrivo e per finire poi ci sarà il voto segreto con il modulo on air, daremo il link dove ci sarà la scheda elettorale elettronica per votare con voto segreto ed eleggere gli organi dirigenti dell'Associazione, quindi il segretario, il tesorio del Presidente, si prepara quella fase di presentazione, di accettazione, il solito rito che si celebra quando si rinnovano gli emendamenti. A questo punto, se non ci sono osservazioni, oggi in Presidenza vedete soltanto me e anche Roberto che come angelo custode lo vedete sulla parte sinistra della finestra, ci fa da regia e di questo lo ringraziamo perché è stato assolutamente impeccato. Cos'altro dirvi? In Presidenza non vedete le persone che c'erano l'altra volta per un problema tecnico perché non possiamo tenere online più di un certo numero di persone correndo il rischio che poi il sistema si blocca e magari poi per 10 minuti bisognerebbe avere i computer e via discorrendo e qui sarebbe un disagio, un rischio che non vogliamo correre ma il tavolo della Presidenza, al tavolo della Polticella e Gianni Colacione. E Luigi Mazzotta. E Luigi Mazzotta, certo, Riccardo Cristiano oggi non c'è perché ha un impegno, arriverà più tardi e probabilmente interverrà, sicuramente arriverà per quanto sarà aperto il seggio elettorale. Io arrivato a questo punto, le comunicazioni si sono esaurite credo di non aver dimenticato nulla. Ricorda il video Marco, ricorda il video Marco. Ah sì, allora la Presidenza ha accettato da parte di Giovanni Tateo un intervento video di presentazione degli emendamenti perché per un giustificato motivo non può essere presente. Prima di dare la parola a Claudio Sterzi, che la ringrazio per la pazienza, abbiamo anche da fare un'altra cosa, che non è una cosa rituale, una cosa che sentiamo. Oggi non è un giorno come tutti gli altri, ma oggi ricorre il decimo anniversario di New York, quindi dell'abbattimento delle torri gemelle. Noi vogliamo celebrare un po' questo decennale, ricordare le 3.000 vittime che ci sono stati in quell'atto terroristico veramente estreme che ha cambiato il destino del mondo, ma lo vogliamo ricordare con pochissime parole per cui pregherei Roberto di agevolare il video che abbiamo predisposto per questo decennale. Prego Roberto. Sta arrivando. Grazie a tutti 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 Grazie Grazie a tutti 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 Grazie Grazie a tutti 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 Grazie Grazie a tutti 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 su questi blog Grazie a tutti 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 Grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti